Io direi che se devo fare un minimo di valutazione di questa giornata la giudico molto positiva. Intanto c'è stato un grosso lavoro da parte di tutto il personale, degli insegnanti, degli alunni perché questo momento riuscisse. Quindi grazie a loro e poi grazie a un'ottima partecipazione delle famiglie siamo riusciti a spiegare quello che noi facciamo che qualche volta non è ben visibile all'opinione pubblica, ai genitori e alle famiglie perché la nostra tendenza è quella di tenere tutto un po' nascosto. Invece delle buone pratiche che sono normali oggi siamo anche riusciti ad espremerle alle famiglie. La nostra scuola media l'anno scorso è stata dimensionata con il secondo circolo, con la scuola elementare Prospero Bollini e con la scuola elementare De Amicis. Questo è un po' il senso del dimensionamento, offrire una verticalizzazione dall'infanzia alla media. Il nostro piano dell'offerta formativa si basa soprattutto su una buona qualità di quello che è il curriculum, della programmazione curricolare perché la nostra scuola tiene ad offrire una solida istruzione di base, per poter una solida formazione per poi affrontare bene il percorso delle superiori e il percorso universitario se è il caso. In generale noi durante il mattino abbiamo l'orario curricolare, mentre al pomeriggio offriamo una serie di laboratori opzionali, sportivi di recupero di eccellenza, di inglese, CDL, patentino e abbiamo la sezione musicale, che è un valore aggiunto della nostra scuola dove i ragazzi possono suonare quattro strumenti, suonano violino, pianoforte, chitarra e flauto traverso. Noi abbiamo organizzato questo Open Day per presentare il nostro piano dell'offerta formativa e per dimostrare anche alle famiglie come la scuola Duca d'Aosta si sia evoluta nel corso sul tempo andando incontro alle esigenze delle famiglie. A dispetto di quando si dica la nostra scuola non è così difficile e difficoltosa, ma noi cerchiamo di tenere conto dell'aspetto umano e soprattutto di instaurare dei rapporti con le famiglie e di avere cura dei ragazzi, tenendo conto del punto di partenza di ciascuno e quindi del suo punto d'arrivo, che non è mai uguale a quello di un altro. Quindi ci soffermiamo molto su ogni singolo allievo e sulle difficoltà che incontra proprio per approntare dei progetti anche individualizzati, dei percorsi individualizzati che servano al superamento di queste difficoltà e al raggiungimento per tutti degli obiettivi prefissati. Ognuno, ripeto, col proprio punto di partenza, per cui ogni allievo ha una situazione individuale ben specifica. Stasera abbiamo presentato il nostro piano dell'offerta formativa e quindi oltre anche a un rinfresco il concerto, perché siamo l'unica scuola ad avere la sezione musicale a cui in questi ultimi anni si è aggiunto anche il progetto musicale. Quindi un'altra sezione che è uguale, identica alla sezione musicale, con la differenza che non avendo comunque avuto riconoscimento dal Ministero, viene definita laboratorio musicale, in cui vengono accolti tutti i ragazzi, anche quelli che non hanno mai suonato, tutti possono accedere con una testa iniziale attitudinale, ma nessuno è mai stato escluso, perché tutti comunque hanno diritto, se lo desiderano, di imparare uno strumento.